Gesù ci chiama a fare il bene con umiltà, di nascosto, rinunciando all'apparire, al fare finta di sembrare qualcosa che non si è. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, mettendo in guardia da una religione del maquillage. Lo ha fatto commentando il brano del Vangelo di oggi, nel quale Gesù rimprovera un fariseo tutto concentrato sulle apparenze e non sulla sostanza della fede. Ha ricordato che in un altro passo Gesù dice ai farisei di pregare nella propria stanza, dove soltanto il Padre tuo ti vede, e di fare l'elemosina e il digiuno di nascosto. Quella libertà interna, quella libertà che si fa il bene di nascosto, senza fare suonare la tromba. Perché la strada della vera religione è la stessa strada di Gesù, l'umiltà, l'umiliazione. E Gesù, Paolo lo dice ai filippesi, umiliò se stesso, svuotò se stesso. E' l'unica strada per togliere da noi il lioismo, la cupidigia, la superbia, la vanità, la mondanità. Dal contrario, questa gente che Gesù rimprovera, è gente che segue la religione del macchilaggio. Apparenze, tu apparire, fare finta di sembrare, ma dentro. Gesù usa per questa gente un'immagine molto forte. Voi siete sepolcri imbiancati, belli al di fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e maciumi.